Bene, ecco il piano. Dobbiamo provocare il maggior numero di danni. Carri armati, veicoli corazzati, depositi di carburante, tutto ciò che possa danneggiare i nazisti. Fra poche ore l'operazione Overlord si abbatterà su queste coste e da qui saranno inviati i rinforzi alle difese delle spiagge. Dobbiamo aiutare i nostri ragazzi. E che renderà meno dura la nostra di strada? Ragazzo mio, tu fai parte del corpo del commando. Ok, ok. Bene, allora mettiamoci al lavoro. Ciao ragazzi e ben ritornati qui su Luparo TV. Missione numero 1 della Normandia riduci le forze dei soldati nemici. Quindi facciamo vedere un attimino la situazione qui. Missione notturna. Qui vedete tutti i nemici. In pratica qui dobbiamo far saltare in aria tutti questi carri armati. E anche il deposito che dovrebbe essere questo qui. Dove, non so, ci sono magari delle... vediamo cosa dice qui l'obiettivo. Recupera dell'esplosivo del deposito munizioni e piazza una bomba al suo interno per distruggerlo. Fai saltare in aria anche i depositi di carburante e almeno 6 mezzi garazzati. Se scatta l'alarma le truppe partiranno subito in direzione della spiaggia. Evitalo a tutti i costi. Quindi il deposito delle armi e diciamo i carammati che vediamo qui. Almeno 6 dice la nostra missione. Almeno 6. Bene, detto questo iniziamo subito con la nostra missione. Lavoro delicato? Direi piuttosto delicato. Manderemo a dormire i soldati. Non c'è problema. Sì? Fatto. Sì? Anche il cagnolino. Signore? Vado subito. Ok. Sì? Mi muovo. Ok, nascondiamolo qui. Signore? Come vuoi, signore? Vado. Dunque. Ok, che giro fa? Ah, porca puttana. Signore? Sbrigati. Bene. Ah-ha. Strangoliamo anche questo. Ah-ha. Lavoro delicato? Fermato. Eh, adesso un po' meno. Vieni qua. Sì. Perché non corre? Perché c'è la maschera, forse. Fatto. Ok. Vabbè. Quindi, qui dentro. D'accordo. Sono addestrato per questo. Ma che minchia. Sono addestrato per questo. non mi hanno detto nulla lancia fiamme? wow fatto figa questa adesso tocca a te amico ah non ci arriva si avviciniamoci ok quanto bomba abbiamo preso? una direi di prenderne ci deve essere un'altra qui eccola passiamo questa adesso l'ho fatto in fretta vero? si hai fatto in fretta adesso mettiamo una bomba qua e l'altra qui bene bene adesso vediamo da adesso semplicemente dovremmo far saltare i carammati beh qua ce ne stanno alcuni direi di prenderci questi qua bazooka 5 ok adesso andiamo a distanza di sicurezza e facciamo saltare in aria muoverti il deposito e anche i carammati cioè dell'altro? allora prima di far esplodere il deposito adesso devo far saltarinare anche questo allora come facevo ad arrivare qui? vado vado allora bavagliamo questo soldato intanto non c'è problema no? ok ok andiamo? sì non mi vede nessuno almeno per ora non c'è problema stiamoci da un soldato allora d'accordo ok oh merda non badare a me non badare a me vai dall'altro lato perfetto così tu non mi vedi sono semplicemente il tuo collega quindi ritorniamo sì ok ok e adesso aspetta dove vado? dall'altro di qua vado serviamo serviamo la partita ma prima mettiamoci qui sì ok bene adesso possiamo iniziare a far saltare tutto in aria dovremmo aver piazzato le bombe tutto a dovere quindi bazooka sì signore ordine signore tu metti di qua fatto a posto ok missione compiuta direi lavoro delicato? eh no manca un altro garamano non c'è problema oh che dolore oh oh